con 150 imprenditori per capire meglio questo nuovo strumento. La sigla RENTRI sta per Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti. Il nuovo sistema prende il posto del vecchio Sistri, mandato in soffitta 5 anni fa. Riguarda molto da vicino le aziende ed entrerà a regime molto presto, dal 15 dicembre. Al MAMU, Mantova Multicenter, un seminario dedicato al RENTRI è rivolto a più di 150 imprenditori. Ringrazio lo studio Andromeda e l'ingegnere Andrea Minari per questa opportunità, le aziende mantovane, per educare e insegnare a facilitare e interpretare la nuova digitalizzazione. Il futuro della gestione dei rifiuti è digitale, ma per essere anche virtuoso serve un lavoro di squadra e una tracciabilità efficace. Abbiamo organizzato questo convegno per riuscire a dare una facilitazione alle imprese, aggiornare le imprese sulle ultime novità normative, cosicché possono essere ricondotti in modo sempre più semplice verso una miglior tracciabilità dei rifiuti. Lo strumento digitale migliorerà l'efficienza nella gestione dei rifiuti, ma rappresenterà anche un'opportunità di crescita per le aziende mantovane. Tra meno di un mese potranno cominciare a iscriversi gli enti e le associazioni che rappresentano le imprese. Anche le imprese che già possono utilizzare lo strumento in modalità demo, sperimentale, dovranno, almeno la prima parte, coloro che gestiscono i rifiuti in maniera professionale e produttori con più di 50 dipendenti, iscriversi entro febbraio. Confimi App Industria ha già organizzato altri momenti di confronto sul tema, occasioni anche per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprenditori.